novella 12 bella e fatta raccontata da ferdinando giovannini sarto c'erano nel mondo due campagnoli braccianti e uno di loro s'ammogliò e dopo sposato passò del tempo che non poteva mai avere figlioli e gli pareva ad essere disperato stevan dunque dispiacenti lui e la moglie e ogni sera si raccomandavano con l'orazione che dio gli dessi al manco un figliolo e la preghiera viense finalmente disaudita perché la donna si accorse che era gravida e venuta nove mesi lei partorì una bellissima bambina ma non sapevano i suoi genitori che nome mettergli dice il padre che si sta a noi a almanaccare il nome gli viene di suo e tanto bella e ben fatta che il suo proprio nome non può essere altro che questo bella e fatta e a così si trovorno d'accordo e al battesimo gli diedano il nome di belle fatta belle fatta cresceva a vista d'occhio e quando fu grandina il babbo la faceva secondo le sue facoltà a maestrare e gli viense imparato anche a tessere il nastro in sul telaio in frattanto lei arrivò all'età di vent'anni e proprio gli era una bellezza maravigliosa e sopra una mana c'aveva un neo a questa sua età a belle fatta gli sammalò il babbo sicché lui in un momento sentette che doveva morire addirittura chiama dunque al capezzale del letto la figliola e gli dice bada cara la mia figliola i me ne vò all'altro mondo e delle ricchezze non te ne lasso perché in un no ti lasso soltanto un ricordo ma vale più di tutte quante le ricchezze e se tu non lo trascuri la disgrazia non ti verrà mai addosso e il ricordo è questo che tu servi sempre a ogni patto il tuo onore e la tua reputazione di ragazza di garbo quando tu ti vegga in pericolo piuttosto scappa in mezzo a una foresta o rinserrati in un convento dopo poco ore che gli ebbe parlato a così il babbo di belle fatta se ne andiede al creatore passorno più mesi ed eccoti a un tratto sammala puranco la mamma di belle fatta e viene in fin di vita chiama subito al capezzale la figliola e gli dice senti io non ho dall'assarti altra eredità che quella di tuo padre bonanima il ricordo che ti diede lui io te lo do e te lo rammento io pure dunque si savia e avvisata che male non te ne vierrà poi more la donna e belle fatta rimane solingola ed abbandonata in casa in senza babbo né mamma belle fatta quel mo sola saccanava a lavorare di nastri al telaio per guadagnarsi il pane ma non poteva sortir fora che non gli andesse a rieto i giovanotti e con una scusa o con un'altra gli vienivano pure in casa a fargli visita sicché dunque belle fatta era tutta sgomenta per serbare la sua reputazione e il suo onore e deliberò di vendere quella po di roba che aveva e poi scapparsene zitta zitta e andarsi a serrare in un convento e fece a così e una mattina di levata quando ebbe ammannito il fagotto dei panni se ne andette fora del paese a cercare un ritiro camminò un bel pezzo a caso e alla sera si ritrovò fra mezzo a un bosco che non c'era via nei sentieri e finì con i sbarrirsi sicché con quella notte buia tutta spersa belle fatta si buttò di ascere dietro a un cespuglio per aspettare il sole e stracca com'era ci si addormì addirittura a giorno deccoti per il bosco una canizza che lo faceva rintronare da ogni parte a quel rumore belle fatta si desta e nel sentire quei cani che si accostavano l'esta si niscondette nel più folto della macchia temidosa che vedendola lì sola qualcuno non gli avesse a dar noia e cavargli l'onore bisogna dunque sapere che in quel giorno appunto il re con una comitiva di persone andeva a caccia per la boscaglia lui gli ascoltava la canizza seguitare e poi si accorgette che i cani abbaiavano a fermo e però corse a vedere che bestia gli avesse mai scovato e guarda di qui sconvolto là di là finalmente scoperse belle fatta niscosta quel mo rimase incantato dice il re oh che ci fate voi costi chi siete allora belle fatta gli raccontò tutti i suoi casi e gli disse che la sua intenzione era di custodire il ricordo del babbo e della mamma dice il re volete venire a starvene nel mio palazzo a risponde lei ma come farò maestà a serbarmi l'onore e la reputazione a così in mezzo a tanti pericoli dice il re anzi gli è il mio pensieri che voi siete ragazza savia e di garbo e in un vi darò noia e nessuno gli ardirà toccarvi ne manco un dito nel mio palazzo ma se invece voi rimanete qui spersa nel bosco vi potete anche incontrare in chi vi faccia del male insomma dopo vari discorsi e di molti dubbi messi innanzi da un lato e le sicurtà date dal re belle fatta si decise ad andare col re e lui la menò con sé con il palazzo e la mettiede in una camera a terreno a dove c'era una finestra sopra una strada e un finestrino con l'inferriata di molto alto e che per compagnia e a guardarla il re diede a belle fatta una vecchia matrona e gli ordinò che nessuno mai fosse ardito di entrare nella camera della ragazza e lui tutti i giorni andeva a quel finestrino a vederla e a parlargli gli dice una volta il re o che fai set a noi fammelo a sapere a risponde belle fatta bene sto maestà ma non mi spasso punto che a casa ero a vez a fare il nastro il re comandò che subito li portassino un telaio e la ragazza si divertiva a intessere il nastro un giorno d'eccoti che passano di sotto alla finestra di belle fatta un branco di strolaghi e gli urlavano chi si vuole strolagare belle fatta quel bocio s'affaccia e vede gli strolaghi che gli addomandano vi volete strolagare dice lei che non ci credo a codeste sciocchezze e poi io non ho quattrini da spendere a risponde uno degli strolaghi ma pure se vi volete strolagare vi si dirà la fortuna che vi tocca dei quattrini non ce ne importa ci abbasta di regalo la sopraccoperta del vostro letto dice belle fatta mi parete matti la sopraccoperta del letto me l'ha data il re e non è roba mia e poi è troppo ricca di trapunti d'oro in quel frattempo il re gli era vienuto al finestrino di dietro alla camera e domandò belle fatta con chi lei parlava e lei glielo disse degli strolaghi e quel che loro volevano dice il re o che voi fatti fatti strolagare delle sopraccoperte c'è no tante che te ne darò subito un'altra dunque a persuasione del re belle fatta si fece strolagare per la sopraccoperta del sul letto e gli strolaghi gli dissano sappiate che voi avete da essere la sposa del re lei a quella nova si mettete a ridere e raccontò al re il discorso degli strolaghi e anche lui rideva perché gli parevan gente citrulla con gli strolaghi a pensare che un re potessi mai sposare la figliola di un contadino e si scoteva il capo e compativa belle fatta per la sua mala spesa passorno altri quattro cinque mesi dopo il giorno degli strolaghi ora bisogna sapere che la regina di portogallo era vedova e gli aveva una figliola sola brutta e scontrosa da non si poter dire e la regina steve in pensieri di trovargli marito per dare un erede al regno ma nessuno voleva quel mostro tutto pieno di dispetto che ti fa siccome tra principi quando si ragiona di maritarsi e susa mandare il ritratto la regina ne fece fare uno bello della sua figliola e comandò che lo portasse al re un suo vecchio ambasciatore di molto fido del re medesimo perché se la figliola la voleva per sua moglie guardassi nel ritratto se gli garbava il re vede il ritratto e poi scramò bella a fargli anche un elogio la somiglia un po a belle fatta a far la corte il matrimonio vi è insepatto vito e si fissò che di lì a pochi giorni il re sarebbe andato in portogallo a visitare la sposa e a trattare degli interessi poi il re scese giù al finestrino di belle fatta e gli disse sai belle fatta c'è una novità sono sposo dice belle fatta me ne rallegro con seco e c'è piacere anche per me perché sortirò da stare sempre a così rinchiusa dice il re sicuro e ti voglio fare prima cammeriera della regina ma che bugiardi è furono gli strolaghi poi era belle fatta la coperta tu desti e per risposo il re tu non avesti a risponde belle fatta ha detto bene maestà furono bugiardi davvero o meglio sciocchi ma se piace a dio il re sarà un bel dillo sposo mio scrama il re anche te mi pari a mattita addio ci si rivederà tra poco e intanto portati bene e dopo ti farò contenta di più infrattato il vecchio ambasciatore aveva pensato a un ripiego se ne va alla zitta dalla matrona guardiana di belle fatta e gli dice sentite ci sono cento scudi tondi per regalo se voi mi consegnate in nelle mani mia belle fatta e non abbiate paura di nulla che ve la riporterò qui tale quale in senza che nessuno gli abbia torto un capello scrama la matrona ma che vi paregli casomai il re vienisse a sapere un similfatto e sarei morta di sicuro che gli è una cosa proprio impossibile ma l'ambasciatore tanto disse tanto pregò che la vecchia carabonita e più tirata dall'interesso gli diede in consegna belle fatta ma però col patto che lui gliela rimanasse a casa prima del ritorno del re l'ambasciatore prese dunque con sé con la ragazza e per mare la menò nel regno del portogallo alla regina su padrona e ci arrivorno tre giorni innanzi al re che faceva il viaggio in vettura la regina subito chiama a parlamento un segreto belle fatta e gli dice oh senti se tu mi da retta e tu operi a mio modo e tutto che resti in fra di noi questi sono mille scudi di regalo in mano e questo gli è un contratto di quanto voglio darti in seguito quando si è compito il mi disegno va intanto nell'appartamento e lì aspetta quel che t'ordino in frattanto era arrivo il re e smontò al palazzo della regina del portogallo e tutta la corte scese giù a riscontrarlo lui a malapena che gli ebbe salutato la regina disse a dovella mi sposa dice la regina sappia maestà che in questo paese c'è un uso che non si può l'intralasciare lei potrà vederla la sposa ma per ora non gli è permesso di parlargli rispose il re a quella nuova l'uso a parlare libero mi pare un po' strambo ma se c'è bisognerà bene che mi ci sottometta il giorno dopo dunque tutti gli erano radunati nella sala del trono e a un comando della regina decco che passa belle fatta in mezzo a dodici damigelle di corte vestite alla reale lei fa un inchino al re e poi va via col seguito dice il re fra di sé medesimo eppure se non fossi sicuro di aver lasciata belle fatta al mio palazzo dire quasi egli è lei è vero però che la figliola della regina non ce l'ha il neo in sulla mana ora bisogna sapere che la regina gli aveva fatto mettere a belle fatta dei guanti carnicini che erano del colore della su pelle e il neo per questo non gli si vedeva quando ebbano fissato ogni cosa e che lo sposalizio si farebbe tra un mese il re ritornò al suo logo ma di già vera arriva belle fatta e il vecchio ambasciatore l'aveva rimessa nelle proprie mani della matrona dunque il re scese a trovarla e gli disse sai il matrimonio è belle concluso e tra un mese vuoi pigliare la sposa tu vedessi come la ti somiglia preparati a star meglio che tu sarà la prima cameriera della regina povera belle fatta che strolaghi te lo dicevo io la coperta tu desti e per risposo il re tu non avesti risponde belle fatta e c'è piacere che sia contento maestà e anche io starò meglio ma per gli strolaghi poi gli dico che se piace a dio il re sarà un bel dillo sposo mio scrama il re senti belle fatta tu sia proprio ammattita a parlare a così quando tu sai che la sposa il ho già patto vita passò il mese e l'ambasciatore torna dal re a invitarlo per lo sposalizio sicché il re col suo treno parte per andarsene nel portogallo in frattanto l'ambasciatore con altri cento scudi di regalo e le solite promesse dopo di molti contrasti si era fatto dare belle fatta dalla matrona guardiana e per mare l'aveva al solito menata alla regina del portogallo anzi che ci arrivasse il re la regina dice allora belle fatta questo poi è il vero momento di darmi retta e fare tutto quello che t'ordino se te vuoi quello che t'ho promesso e nel contratto che ti diedi a rispose belle fatta istaro a su ordini lei comandi pure la regina la fece mettere in un bell'appartamento e gli disse di vestirsi da sposa per il giorno dopo e che operassi secondo quanto gli avrebbe lei insegnato che sposato il re all'altare si ritirassi in camera e a desinare non venissi fingendo di sentirsi un po male ma a cena sì ci doveva essere e mescere al re il vino d'una bottiglia che lei gli voleva dare lì a tavola e poi dopo quando fussano entrati in camera e il re si spogliava mezzo assonnato dal vino bevuto belle fatta aveva da trandugiare a levarsi i panni con la scusa di dire le sue orazioni e come il re gli era addormentato per bene sonare un campanellino che gli mettiede tra le mani tutte d'accordo insomma aspettorono dunque la mattina della cerimonia allora fissata la corte steva in cappella e si fece lo sposalizio con le debite funzioni e poi la sposa se ne andette in camera sua il re a dir vero sempre più rimaneva in nel vedere che la sua sposa rassomigliassi tanto a belle fatta ma perché sapeva d'averla lasciata a casa e poi in sulla mana della sposa non c'era il neo di belle fatta lui pensava che fosse un caso quella rassomiglianza quando poi sentiede che la sposa non scendeva a desinare fu un po annoiato ma si rimettiede alla sera a cena in nel trovarsela accanto il fatto è che la regina diede alla sposa la bottiglia del vino e gli disse in quel mentre via figliola mia mescete da bere al re vostro sposo e fate gli onore belle fatta prese la bottiglia e mescete da bere al re e lui dopo un po di bere cominciò a sentir voglia di dormire salsa dunque dice mi par tempo dire a letto andiamo via bella sposa allora gli accompagnarono gli sposi alla sua camera e serra alla bussola quando gli sposi furono dietro in camera soli a bene che il re avessi sonno c'era un divano sicché fece qualche complimento alla sposa e ci si prese delle confidenzie poi per mostrargli la sua contentezza gli regalò dopo midoro dice dopo via andiamo a letto che casco dal sonno dice belle fatta faccia pure maestà ma mi permetta di dire prima le mie orazioni e il re come vigarpa ma lui si spogliò subito e a mala pena nel letto si addormentò che pareva un ghiro belle fatta sentendolo russare tira fora il campanellino e lo suona e da una porticina segreta comparse la regina e dice presto vieni belle fatta vieni con me co la mena via e la riconsegna senza andugio all'ambasciatore che dal suo canto la rimenò subito alla città del re e la rimettiede nelle mani della matrona guardiana la regina a male brighe partita belle fatta va di corsa in camera della sua brutta figliola e gli dice animo su che gli è tempo di non aspettare bisogna che tu vadi a dormire col re scrama la brutta o che gli viene in capo mamma gli pare io con gli uomini non ci sono ma stata e ne manco intendo da andarci via giucarella gli rispose sua madre voto guastare ogni cosa con codesti daddoli tu sia la sposa del re e le spose dormono assieme al marito a farla corta gli scivolse del buono e del bello alla regina per tirare la brutta in camera del re e quando poi fu lì a vedere il re al letto lei non si voleva spogliare e urlava e s'arrabbiava sicché dunque sua madre era quasimenti disperata e fortuna e il re dormiva bene appioppato finalmente gli rinusci alla regina di farla spogliare e metterla al letto ma la brutta rannicchiata solo una prodina badava a dire senta mamma se il re mi tocca pure un piede comincio a strillare e la chiamo stia vicina ve non se ne vadia di qui la regina però non gli diede retta e la lasciò lì sola al buio al letto col re in verso la mezzanotte passata decco ti il re si desta e si rivolta dal lato della sposa per abbracciarla la brutta sente quel tocco e principia a tirar calci e a stridere come un gatto stretto tra l'uscio e il muro mi lasci stare mi lasci stare non voglio essere toccata mamma mamma corra qua scrama il re tra il stupito e arrabbiato o che lavoro egli questo che avete rimutato pensieri in un momento di anzi non era così ma vedendo che quella non si chetava il re si rivolse dall'altra parte e si riaddormentò dopo un pardore si rideste il re e rideccotelo per abbracciarla sposa e quella gli fa la medesima figura sicché il re non sapeva proprio che si pensare e non volendo far del chiasso riattaccò un sonno alla prima alba poi il re aperti gli occhi guarda la sposa e ti vede d'avere accanto quel brutto mostro con un viso dispettoso e sconvolto da far paura salza ad un tratto infurito qui c'è un tradimento grida e chiama perché vengano i sui camerieri quelli ne entrano nella stanza e anche loro restano di sasso a quello spettacolo dice il re presto attaccate i cavalli e via subito a casa di fatto in un momento è pronta la carrozza il re ci sale dentro e senza dire addio a nessuno ritorna deviato alla sua città quando la regina sentette tutti quei rumori corse alla camera del re e ci trovò la sua figliola sola gli domandò che gli è successo dice la brutta guà il re se ne è ito via che volete invochiamo tanto perché lui mi toccava e voi non mi avete risposto scrama la madre inviperita figliola sguaiata e grulla bel lavoro che tu ha fatto dopo tante industrie per trovarti marito e ora per la tu ignoranza ci sarà anche da aspettarsi che il re ci muova la guerra ma la stiamo lì queste due donne a batte beccarsi in tra di loro e veniamo al re a malapena il re fu al suo palazzo subito scese a far visita belle fatta come va a me bene gli ha rispose belle fatta o a lei e la sposa in dov'è non mi ci presenta per chi possa ne escire da questo rinchiuso dice il re che vuoi ci vuole un po di pacienza in nelle cose è intravenuto che la mamma pietosa non l'ha volsuta lassare partire nel momento la sposa e tornerò a pigliarla tra un mese ma passa un mese ne passa due e la sposa il re non andeva a ricercarla e belle fatta gliene domandava sempre al re e lui ora con una scusa ora con un'altra gli rispondeva e c'è tempo vierrà non dubitare dopo tre o quattro mesi un giorno al re gli parse che belle fatta avessi perduto il suo colore sicché gli disse belle fatta che ti senti male che forse non ci sta bene qui a terreno se ti garba ti metto in un quartieri più arioso su in cima al palazzo a rispose lei che mai sta in uno nulla non ho bisogno di nulla ma pure tutti i mesi belle fatta mutava di viso e la matrona raccontò che la ragazza non mangiava più con appetito allora il re gli disse a belle fatta senti te non sta bene di certo e però ti mando il dottore oggi a visitarti e senza che aspettassi la risposta da ordine che il medico della corte vada a vedere belle fatta entra dunque il medico e comincia a interrogare belle fatta come uso dei dottori poi la visita gli tasta il polso e ragazza mia gli dice il vostro male non è senza rimedio passati nove mesi voi siete belle guarita il re aspettava il medico di fora dunque dottore che male ha questa ragazza il medico con un risino malizioso allora gli risponde che vuole maestà cose da donne ecco glielo dico chiaro belle fatta è gravida che come come urlò il re e infurito tira lo stilletto schizza ad un salto in camera di belle fatta la ciuffa per i capelli e poi alzata la mano per ammazzarla gli dice a denti serrati traditora gli è questa la ricompensa di tutto quel che ho fatto per te sciaurata io che potevo averti a mi piacimento mi son sempre proibito di venirti in camera e te ha osservato il ricordo del babbo e della mamma a questo modo ora dunque è l'ora di morire per le mie mane a quella furia si buttò in ginocchioni per terra belle fatta sì maestà gli dice piagnendo io ho mancato a tutto e merito la morte ma questa creatura che è dietro di me non c'ha colpa nel mio peccato lassi maestà che nasca e poi faccia di me quel che lei vuole il re a quelle suppriche si abbonì e disse sì che nasca la creatura e poi i ti castigherò io della ton gratitudine ordinò dunque che due levatrici stassano sempre con belle fatta e chiamata la matrona guardiana gli tirò sulle calze in cento modi per riscoprire qualche cosa ma lei a dire che non sapeva nulla e che da belle fatta non c'era stato nessuno il re però non era troppo persuaso delle parole della vecchia e la fece mettere in prigione per ischiarire intanto come tutto l'affare fosse andato al termine dei nove mesi belle fatta partorì un bellissimo bambino e il re senza andugio corse subito in camera di lei per fare le sue vendette e cominciò da capo con rimproveri a sfogarsi che l'aveva ingannato e tradito belle fatta tuttora umiliata lo steva a sentire e vedendolo tanto incattivito gli disse maesta lei può le fare di me quel che lei vuole ma gli domando anche una grazia che prima mi tenga al battesimo questo bambino e poi mi ammazzi pure che io son contenta di morire per l'essumane a rispose il re si faccia anche questo e poi tu me la pagherai il re gli andiede via e le balie si messano attorno la creatura per vestirla a modo e quando fu belle accomidata belle fatta la pigliò un braccio e tra certe gale che aveva al collo gli ci rimpiattò e nessuno se ne avvedde i dupomi d'oro che il re gli diede in regalo la notte del matrimonio in portogallo poi le balie portorono la creatura alla cappella dunque comincia la cerimonia e il re da compare teneva il bambino in sulle braccia e quando il prete fu per unirlo una delle balie aperse la camicia del bambino e comparirno quei dupomi d'oro che belle fatta gli aveva messi dentro a quella vista il re gli parse di riconoscerli subito grida fermi tutti che innanzi di seguitare la cerimonia io ho bisogno di schierirmi di una cosa la salì il bambino e corre in camera di belle fatta e gli dice che è questo tradimento chi t'ha dato quei pomi d'oro a risponde lei e gli ho avuti in regalo da sua maestà come scrama il re in un toma dato di simili regali insomma chiedi di qua rispondi di là si viense a scoprire tutta la matassa e il re cognobbe che sull'egittima sposa era belle fatta e suo quel bel bambino tienuto al fonte sicché contento e allegro il re gli disse alla sposa avevi proprio ragione belle fatta quando te ripetevi ogni sempre se a così piace a dio il re sarà un bel dì lo sposo mio grazie a tutti grazie a tutti